Buongiorno ragazzi, ben ritornati su Dirt Rally, oggi siamo in Grecia, tappa 1 con la lancia Delta HF integrale Contro abbiamo il Coshwood e l'Impresa, quindi ragazzi delle macchine che hanno fatto la storia Chiaramente targa Torino e sentite un po' Mamma mia che bella che è quest'auto Allora tempo 30 secondi, cos'è che c'era scritto là? Non l'ho visto Ok, vediamo un po' se riesco a fare una prova speciale fatta bene raga Provate già a dirmi sotto giù nei commenti secondo voi che ci riuscirà o meno Questa curva è stata fatta un po' niente Questa è già stata fatta molto meglio Devo dire che quest'auto ha i giusti cavalli almeno, per ora Porca vacca, perché come vedete è una prova speciale abbastanza stretta E se avevo una macchina con troppi cavalli mi schiantavo io Questa qua mi pare che abbia i giusti cavalli per fare queste derappate e per stare abbastanza centrali Anche perché senza volante è un casino raga qua In sinistra 5 continua per 80 Attenzione si restringe 60 crinale Ok, pensavo di schiantarmi là Possibile salto 80 Eh, possibile cosa? In sinistra 5 su crinale possibile salto non tagliare A posto che il salto è meglio che mi dici schianto perché io mi spolpetto ovunque Allora non conosco minimamente il tracciato Sinistra 6 In destra 4 si restringe non tagliare E destra 5 Sinistra 6 Crinale destra 6 e crinale destra 6 In attenzione sinistra 5 lunga non tagliare 6 Al centro sul crinale si restringe 60 E poi ti devo fare anche la pasta asciutta? Destra 6 media Sinistra 6 60 Tieni la sinistra dopo il bivio Destra 6 media Sinistra 5 media non tagliare 250 Alla faccia chi era 6? Quella Stai al centro sul piccolo crinale dopo il bivio 100 Attenzione rallenta grande cunetta destra 4 Sinistra 5 E sinistra 5 si restringe diventa 3 non tagliare certo Perfetto Allora mi sto concentrando E sinistra 3 non tagliare su avvallamento E destra 5 crinale Sinistra 1 media non tagliare No 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 E destra 5 lunga si apre E sinistra 2 media non tagliare 60 Perché ho guardato la roba là? Porta macchia Stavo guidando così bene Sinistra 6 In destra 5 lunga In sinistra 5 media si restringe In destra 5 60 Avanti Destra 6 su cunetta 60 Sinistra 6 Destra 5 media 80 su due piccoli salti Porca macchia che bordello chi è qua raga Sinistra 4 non tagliare Tieni la sinistra su crinale 130 Ok non vedevo nulla là Sinistra 2 si restringe diventa 1 non tagliare 80 Vai avanti tu lì ottimo Il navigatore mi piace qua eh Destra 4 media poi sinistra 5 60 crinale Porca macchia chiamatemi Pilota Bistard qua Nooo Dai Come cavolo Dai che hai un 4x4 L'arbusto ti blocca Ma fammi piacere dai Una sfortuna ho portato Possibile salto o cosa Dimmi se c'è un salto meno In sinistra 6 media non tagliare 80 crinale Alla faccia che cavolo di strada ho preso Ma dai dove Non cadere Fai retro Fai retro Col cavolo che recul Vabbè Addio prova speciale raga Addio prova speciale Non ci credo Ma porca vacca Stava andando così bene Ma questa strada Come potete vedere È veramente difficile Porca vacca Vabbè almeno Spero che vi piaccia un po' Il gameplay Sinistra 3 media non tagliare Curva difficile con vesta Destra 4 media non tagliare 60 Sinistra 6 su crinale In attenzione si restringe Sinistra 6 media In destra 4 80 crinale possibile salto E destra 6 continua 100 Troppo difficile questa parola speciale raga Bordello Micidiale Magari si conosceva Quel punto Non esplodeva in quelle maniere Però mi pare di aver guidato Abbastanza bene Fino a quel punto 1 media non tagliare In crinale possibile salto Attenzione sinistra 6 Curva a destra 1 media non tagliare Curva a destra Dai che avevo recuperato 4 secondi L'avete visto Ero a meno 14 Adesso ero a meno 10 Cioè più 10 Metta a sinistra 6 E destra 5 media Poi sinistra 6 100 Tieni la destra su appallamento Sinistra 6 non tagliare Destra 5 poi sinistra 6 80 Destra 4 si restringe Dai Niente da fare raga Il sogno Porca Vedete che mi aveva dato Dai Io guardo le robe No vabbè Penalità su penalità raga Mi aveva dato Sulla sinistra il coso verde Vi avevo detto che avevo recuperato Attenzione tieni la destra su crinale Impulva a sinistra 4 lunga Non tagliare 100 Tieni la destra su crinale In sinistra 5 continua per 100 E crinale 100 Su tutta la macchina svirgola Sinistra 5 si restringe e diventa 4 E sinistra 5 crinale 58 non tiene più raga Non curva più Almeno andiamo a concludere raga Con la macchina un po' svirgola Prova ancora Destra 1 media Non curva più di tanto A sinistra In sinistra 1 media E destra 1 media Avanti Avanti dall'altro Mi dispiace cavolo Ci riuscirò prima o poi a fare Una prova speciale Senza schiantarmi in dirt rally Perché io cerco di spingere sempre Cavolo Al massimo delle mie possibilità Potenzialità Però faccio sempre brutte fine Magari dovrei prima farmi il circuito Così so già un po' come A prova speciale Ma poi non c'è più divertimento Dai che siamo arrivati 8 minuti di agonia raga Ho distrutto un lancio a delta HF integrale Cioè porca vacca Comunque spero che il video vi Terzo Terzo gradino del podio Però Il Ford Escort RS Coshworth Ha dominato brutalmente Questa tappa Io raga Spero che il video vi sia piaciuto Ditemi quale auto volete vedere nel prossimo video E ditemi se prima o poi riuscirò mai A concludere Una tappa senza incidenti Questo sarà l'obiettivo del 2017 Io vi saluto Vi ringrazio E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video